La forza di Roma è talmente prepotente che non si può non soccombere a giocare con i riferimenti che Roma dà. Credo che questa location ha voluto ospitare proprio qui 42 designer contemporanei che hanno lavorato sul concetto di unico per creare degli oggetti del desiderio dalla forte vocazione timeless. Roma vuole sempre di più essere un palcoscenico per i giovani, i talenti, essere sempre di più un polo internazionale di scouting e anche avvicinarsi al mercato.